In questo video parliamo di un approccio abbastanza inusuale e molto poco seguito per raggiungere il successo, ma prima ricordati di iscriverti al canale cliccando sul pulsante rosso che vedi qui sotto al video per non perderti mai nessun nuovo aggiornamento in arrivo. Un trend ricorrente che ho notato nella mia vita è che ogni volta che riesco in qualcosa di importante per me non è perché ho fatto di più e più velocemente, piuttosto il contrario, perché ho fatto meno cose o cose più piccole con maggiore attenzione. Se continui a provare a fare qualcosa e puntualmente continui a fallire o non riesci a partire è probabile che tu stia facendo troppo troppo velocemente oppure che tu stia cercando di fare cose così grandi da esaurire le tue energie al solo pensiero prima ancora di aver cominciato. Dopotutto ci diamo tutti i grandi obiettivi audaci, ma come possiamo correre una maratona se non abbiamo mai fatto il giro del vicinato nemmeno a piedi? Oggi ti suggerisco un approccio un po' diverso dal solito e decisamente più sostenibile per arrivare dove vuoi. L'idea è quella di pensare in grande, non limitare i tuoi sogni in alcun modo, non è questo l'obiettivo, ma agire in piccolo, molto piccolo, quasi minuscolo. Ok, non così piccolo. Scomponi il tuo grande obiettivo in micro task che sono facili da raggiungere una dopo l'altra. Parti dalla prima e usa quello che hai imparato per fare la successiva. Piccoli passi uno dopo l'altro ti daranno lo slancio necessario per continuare ad agire con motivazione ed entusiasmo, credimi. E la ragione è molto semplice, perché così facendo ti impegni a seguire un processo piuttosto che a raggiungere un obiettivo, qualunque esso sia. Impegnarsi in un grande progetto significa mettere un bel peso sulle nostre spalle. Ti immagini se adesso mi sbagliassi la mattina e decidessi che voglio scrivere almeno due libri nei prossimi sei mesi? Solo dirlo mi stressa, eppure lo facciamo sempre. Ci gettiamo addosso un sacco di pressioni inutili, che sia per perdere peso o per lanciare un progetto lavorativo o per creare un'opera d'arte mai vista prima. Agire in piccolo riduce istantaneamente la pressione e aiuta a focalizzarci sul processo sistematico che giorno dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno ci farà arrivare alla meta che abbiamo in mente. Quando il tuo focus si sposta dalla performance alla pratica quotidiana riesce a procedere verso il futuro che hai in mente senza perderti le soddisfazioni del momento presente. Anzi, proprio perché noti quelle soddisfazioni avrai sempre più entusiasmo nel procedere. Finalmente lasci andare il bisogno di risultati immediati, quel bisogno che porta la maggior parte di noi ad arrenderci in partenza. Perché risultati immediati è difficile che ci siano nella nostra vita. Impegnarsi nel processo è molto più efficace che ossessionarci con l'obiettivo finale. Ed è anche l'approccio che vince sempre. Perché non sono le azioni audaci, i salti nel buio, le scelte incoscienti a portarci al successo, qualunque cosa successo significhi per noi. Piuttosto le piccole azioni ripetute nel tempo che si accumulano per arrivare a dare grandi risultati. Seth Godin la mette così. Piccoli progressi incrementali sono la vera causa della trasformazione in positivo come in negativo. Goccia, dopo goccia, dopo goccia, diventando più forte ogni singolo giorno. E come sempre ragazzi è arrivata la parte più bella di questo Ceci Weekly. Quale enorme sogno! Puoi cominciare a scomporre in tanti minuscoli step che puoi cominciare ad implementare già dopo aver guardato questo video. Condividilo subito nei commenti qui sotto per ispirare e lasciarti ispirare dalla tribù. Perché come sempre ti ricordo che non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su cecilia-sardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio un grandissimo abbraccio di luce!